Il giorno prima del match e nel dopo partita, le nostre interviste in esclusiva su Rete8 Sport. Begui le nostre avventure su Rete8 Sport. Le nostre interviste in anteprima, i sogni e le emozioni di noi band azzurri. Anche per quest'anno il Tescara sarà in esclusiva su Rete8 Sport. Solo su Rete8 Sport!